5 cento, avanti geriette venite qua davanti, sulle mani, sulle mani dai, tutti quanti su dai, che c'avete paura? Signori noi siamo i black eagles, alle sette corde, Alessandro alle piani! Alla Jackson, Andrew, Ben! Al basso! E, 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 Enzo! Percus! Cassanelli! Alla batteria! Fate, bingo, esposito! Alla batteria! C'è un bambino a 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti